9.85 il migliore al mondo in Altura Nau e Rovi lo scorso anno stessa pista 9.77 Occhio alla partenza di Artemis 6.4 E poi Treticano già gareggiato in Italia in alcuni casi come Sisse che ha corso a Savona lo abbiamo ricordato, finalista mondiale indoor Okot che ha corso al festival dello sprint Ma i fare sono puntati ovviamente sul leader mondiale stagionale Ferrino Maniana dalla corsia numero 5 sul campione olimpico della stappetta 4% Fausto Desalù in corsia 6 e attenzione alla partenza in corsia 4 di Artur Sisse grande interprete dell'avvio Li vediamo in pista Galbieri, Luca usci, Sisseo Maniana Desalù, Polanco e Occhio Sisseo Maniala Sisseo Maniala Omaniala va a superare Sissee 10.11 per vincere per recuperare Sissee e vincere negli ultimi metri questo meeting di Castiglione il vento pressoché nullo 0.2 e Grazie a tutti.